cari amici di mille un'avventura torniamo con questo secondo video a parlare dell'assembly dello z80 in particolare nella versione per lo zx spectrum vedete che qui abbiamo già aperto il nostro visual studio 2019 con un programma in assembly per lo z80 e vediamo subito che cosa fa anche questa volta non faremo niente di eccezionale ma andiamolo subito a vedere eccolo qui vedete che c'è uno un bordo colorato di rosso lo sfondo in bianco e poi c'è questa linea nera di pixel che parte dall'angolino in basso a sinistra e poi sale sale fino ad arrivare qui in alto ecco vediamo come siamo riusciti a disegnare questa fila di pixel neri inclinati di 45 gradi e poi in futuri video cercheremo non di disegnare singoli pixel perché in effetti esiste l'istruzione in basic che fa questa cosa ma cercheremo di spostare interi sprite cioè interi gruppi di pixel sullo schermo in modo diciamo dolce senza fare molti scatti cercando di ottenere un effetto come gli sprite per esempio del c64 ecco per capire però come colorare questi pixel andiamo a vedere il codice sorgente in linguaggio assembly del nostro visual studio ecco vedete diamo un'occhiata prima a queste poche righe ecco queste prime due righe cosa facciamo carichiamo l'accumulatore col valore 2 e poi andiamo richiamare una funzione che si trova nella rom dello zx spectrum in questo indirizzo che non fa altro che colorare il bordo dello schermo di rosso ecco questo mi serviva semplicemente per capire dove iniziava il bordo e dove finiva il bordo appunto per capire se effettivamente i pixel erano disegnati su tutto lo schermo possibile poi come abbiamo già visto nel video precedente carichiamo il registro bc con questo valore qui bf 00 ecco vuol dire che nel registro b verrà inserito il valore esadecimale bf nel registro c invece viene memorizzato il valore 0 dopodiché richiamiamo la funzione plot che si occupa di disegnare il pixel esattamente come fa il basic niente di più poi vedete qui che succede dopo aver disegnato questo primo pixel che si trova nelle coordinate y bf che vorrebbe dire 191 e nella coordinata x 00 quindi si tratta del punto che avete visto in basso a sinistra dello schermo lo abbiamo disegnato questo pixel andiamo a incrementare il registro x quindi andiamo a incrementare la x ci spostiamo verso destra e decrementiamo la y la il registro b corrisponde alla y decrementare la y significa spostarsi verso l'alto e dopo aver eseguito queste operazioni ecco vedete qui c'è un'istruzione di salto che non abbiamo ancora trattato parlando dell'istruzione dello z80 però come vedete inc vuol dire semplicemente incrementa il valore del registro dec vuol dire decrementa il valore del registro jp sta per jump nz non 0 vuol dire che se il decremento del registro b non ha dato come risultato 0 allora salteremo col nostro programma all'etichetta che ho indicato con repeat questa etichetta qua e andremo quindi a richiamare la funzione plot con le nuove coordinate che hanno spostato il punto da disegnare verso destra e verso l'alto e questa cosa viene ripetuta finché il registro b non diventa 0 cioè finché non avremo completato la nostra diagonale o meglio il nostro segmento inclinato di 45 gradi quindi vedete che se ora andiamo a eseguire si cancella lo schermo si carica il programma in linguaggio macchina viene eseguito e compare immediatamente la linea nera inclinata di 45 gradi se volessimo vedere che si costruisce poco a poco basta inserire dopo il disegno del del pixel basta inserire l'istruzione alt quella che vedete anche qui sotto qui c'è un col plot di troppo quindi questo lo tolgo vediamo ah no perché ho capito vabbè comunque lasciamo perdere questa cosa andiamo sull'istruzione alt che ho messo subito dopo col plot cos'è questa istruzione è l'istruzione che aspetta che lo schermo venga completamente disegnato dal pennello elettronico del monitor a raggi catodici immaginate che ci sia ancora un monitor di questo genere la funzione alt interrompe l'esecuzione del linguaggio macchina che vedete qui finché il pennello non è arrivato nella posizione 0 quindi in alto nello schermo e poi ricomincia a disegnare questo vuol dire che il nostro programma disegnerà un pixel aspetterà un cinquantesimo di secondo perché lo schermo viene ridisegnato 50 volte al secondo prima di disegnare il pixel successivo vuol dire che in un secondo verranno disegnati 50 pixel e nel secondo successivo altri 50 e in circa 4 secondi un po meno di 4 secondi si ridisegnerà tutta la linea vediamo se funziona davvero così eseguiamo il programma adesso vedete che i pixel stanno salendo piano piano perché grazie all'istruzione alt il programma si interrompe e aspetta il cinquantesimo di secondo del ridisegno dello schermo un pixel ogni cinquantesimo di secondo e allora abbiamo potuto vedere che effettivamente la linea veniva disegnata lentamente è ovvio che di solito questo non si fa a meno che non ci sia la necessità di aspettare che inizi il ridisegno dello schermo quindi se noi lo togliamo questo alt subito dopo col plot non si vede subito la riga disegnata in modo completo senza accorgerci che viene disegnata un pixel dopo l'altro ecco perché subito dopo il salto che avete visto qui proviamo a ingrandire un attimo perché subito dopo questo salto messo col plot perché altrimenti non verrebbe disegnato il pixel in alto quello che corrisponderebbe alla coordinata y uguale a 0 ma comunque questo è un particolare che insomma ci fa perdere solo tempo e basta va bene quindi come vedete questa routine non fa altro che disegnare questa linea sullo schermo e una cosa simile l'avevamo già vista nel video precedente dove abbiamo spiegato come è organizzata la struttura del nostro schermo sullo zx spectrum quello che dovremmo fare adesso è andare a analizzare come funziona la funzione plot che è quella che effettivamente prende le coordinate del punto e le va a disegnare nella memoria nel punto giusto perché sapete che la memoria è tutta organizzata in modo strano non è organizzata in modo lineare come uno si aspetterebbe allora vediamo con sfruttando questo codice che si trova su questo sito break into program un sito del regno unito in cui si spiega proprio come organizzata la memoria dello schermo dello zx spectrum e qui sotto propone un programmino in linguaggio macchina che praticamente fa la stessa cosa della funzione plot del basic anzi fa un po meno però io ho aggiunto i pezzi che mancavano per fare in modo che fosse effettivamente la funzione plot quindi ci prendiamo questo codice e ce lo portiamo ecco sullo schermo qui l'abbiamo già importato infatti avete visto che funzionava e qui devo ridimensionare un po' vediamo se riesco ecco una cosa del genere adesso mostro anche la lavagnetta così forse riusciamo a capirci qualcosa la lavagna la metto di qua no volevo farla così la lavagna la metto di qua e il resto da quest'altra parte e anche questo volevo ingrandirlo bene ecco fatto più o meno ci vediamo allora la funzione plot inizia da qui da questo ld facciamo un po' di spazi così si vede bene e questo non ci serve ci porta via solo dello spazio ecco qui allora cosa fa questo ld ab allora come vedete qui a sinistra ho portato quello che ho spiegato nel video precedente per trovare l'indirizzo del byte dove accendere il pixel ecco questo indirizzo lo andiamo a memorizzare nel registro hl registro di 16 bit che quindi può indirizzare esattamente il byte che ci interessa nell'intera memoria dello zx spectrum ecco dobbiamo organizzare la coordinata x e la coordinata y che sono entrambe composte il valore è memorizzato in un byte e vi ricordate questo byte è organizzato in 8 bit da x7 più significativo fino a x0 meno significativo qui ci stanno 256 valori che corrispondono alle coordinate x del nostro pixel nella y che comunque necessita di 8 bit da y7 più significativo fino a y0 ci mettiamo il valore della coordinata y che come avete visto prima può variare da 0 fino a 191 sono 192 valori che servono per indirizzare lo schermo in verticale cosa vedete qui cosa vedete qui a sinistra vedete che tutti questi bit devono essere organizzati nel registro hl con quelle particolari dislocazioni in particolare la cosa che abbiamo notato la scorsa volta è che y7 e y6 che sono i due bit più significativi della y della coordinata y non sono seguiti come ci si aspetterebbe da y5 4 e 3 ma sono seguiti da y2 y1 y0 quindi dobbiamo prendere i byte delle nostre coordinate e spezzettarli memorizzandoli un pezzo qui un pezzo là nei nostri registri il resto della coordinata y la vedete qui sotto nel registro l quello meno significativo dove trovate anche il pezzo che riguarda la coordinata x non gli ultimi 3 bit ma i non gli ultimi 4 qui manca x3 scusate adesso ci sono tutti sì e anche sopra ci sono tutti il registro h e il registro l sono composti da 8 bit quindi mancava da x7 a x3 invece i valori della x i bit x2 x1 x0 questi formano un numero di 8 bit perché i valori in questi 3 bit vanno da 0 a 7 e questi valori da 0 a 7 mi dicono praticamente nel byte che individuiamo grazie al registro hl mi individuano il bit che deve essere acceso per esempio se avessi il valore 0 in questi 3 bit si accenderebbe il questo bit qua se invece fosse acceso il bit più significativo e quindi ci fosse il valore il valore 7 in questi 3 bit si dovrebbe accendere quest'altro bit qua e così via con i valori intermedi quindi se c'è il valore 0 si accende questo 1 questo 2 questo se c'è il valore 7 in quei 3 bit si accende quello all'estrema sinistra quindi i 3 bit del registro x servono per decidere il pixel da accendere tutti gli altri mi individuano il byte che contiene quei bit e allora guardate che cosa si fa lo vediamo velocemente perché è già un quarto d'ora che parliamo e non abbiamo detto le cose importanti allora vedete con l'istruzione ldab prendiamo il registro b il registro b è quello che contiene il registro b è quello che contiene la y infatti avete visto prima nel programma che vi ho mostrato che la coordinata y la memorizzavo nel registro b invece nel registro c ci memorizziamo la coordinata x quindi che cosa facciamo con questa istruzione ldab andiamo a prendere la y la coordinata y e la memorizziamo nell'accumulatore dopo eseguiamo l'operazione end con questa maschera di bit vedete 0 0 0 e poi ci sono 3 1 finali cosa fa l'istruzione end? va a cancellare tutti i bit che contengono 0 e tiene solo il valore dell'accumulatore di quei 3 1 che ci sono per esempio se nel registro b ci fossero memorizzati questi bit vediamo quanti sono ne manca 1 sì se ci fossero memorizzati questi 8 bit facendo end con quel valore che vedete lì i primi 5 bit vengono come cancellati diventano tutti 0 l'operazione end fa questa operazione se ci sono degli zeri in uno dei due operatori che sono l'immediato che vedete lì e l'accumulatore vengono azzerati tutti i valori invece dove ci sono gli 1 che vedete quei 3 1 finali viene conservato il valore che c'era e quindi 0 1 0 gli zeri rimangono gli 1 rimangono non si azzera tutto in quel caso quindi l'operazione end fa questa cosa qui e questo cosa comporta? comporta che il nostro registro b contiene adesso solo y2, y1, y0 perché in realtà sono nell'accumulatore adesso questi bit perché l'operazione memorizza il risultato dal registro b l'ha memorizzato nell'accumulatore poi ha fatto l'operazione end questo end ha azzerato tutti i bit tranne gli ultimi 3 e questi ultimi 3 vedete cosa succede dopo sempre nell'accumulatore viene fatta un'altra operazione questa operazione OR OR è una sorta di operazione logica che ho trattato in video precedenti dove ci sono gli zeri questa volta non si toccano i bit che ci sono se ci sono dei bit a 1 vengono accesi anche se erano spenti anche se erano 0 vengono portati a 1 vuol dire che nel nostro accumulatore adesso si trova questa serie di zeri questi 5 zeri seguiti dal valore che c'era in y2 y1 y0 con questo OR andiamo ad accendere vedete questo 1 qui andiamo ad accendere scusate ma ci sono le notifiche del tablet sarà meglio andare a zittire tutto se no ci continuano a disturbare e sono già 20 minuti e non riusciamo a finire allora vedete cosa abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto 0 1 0 0 1 0 questi qui cambio colore così lo vedete 0 1 0 che sono proprio questi nell'accumulatore piano piano si sta costruendo ciò che finirà nel registro H e come vedete ci sono già anche y2 y1 e y0 abbiamo quasi costruito il registro H dobbiamo ancora vedete le frecce blu che ho disegnato sistemare quei due bit che dovranno contenere y7 e y6 cioè la parte più significativa della nostra y quella che era contenuta nel registro B e che è ancora contenuta nel registro B in pratica vogliamo che quei due bit 1 0 finiscano in questa posizione qua e poi memorizzeremo l'accumulatore nel registro H che conterrà tutta questa bella sequenza di dati nell'ordine giusto allora come si fa a fare questa cosa allora vedete che in effetti l'accumulatore cominciamo a memorizzarlo nel registro H come vi dicevo perché abbiamo già un po' sistemato le cose adesso l'accumulatore ci serve per fare altre cose per fare altri calcoli l'accumulatore purtroppo è il registro che può fare questi end questi or questa selezione di bit perciò ci tocca liberarlo ma tanto cominciamo a memorizzare i due bit che ci interessavano nel registro H dopodiché vedete di nuovo prendiamo il registro B e lo memorizziamo nell'accumulatore ripetiamo l'operazione che abbiamo fatto all'inizio perché ci serve di nuovo la coordinata Y e questa volta vedete che succede qua ci sono tre istruzioni identiche di seguito ecco che cosa fanno queste tre istruzioni identiche allora puliamo un po' tutto questo schema qui ecco e riscriviamo la B che avevamo proposto vi ricordate c'era 1 0 1 0 1 0 1 0 non avevo avuto molta fantasia e adesso noi vorremmo tanto che i primi due bit Y7 Y6 che sono nel registro B si spostassero nella posizione 5 nella posizione 4 in modo che siano nella posizione giusta per poi essere incastrati nel registro H e cosa fa l'istruzione RRA non fa altro che prendere i bit e spostarli verso destra verso destra quindi RRA è un'istruzione che prende i bit di un registro in questo caso l'accumulatore e li sposta verso destra quindi che cosa succederà questo 0 viene buttato via questo 1 finisce al posto dello 0 e così via tutti i bit si spostano di una posizione e nel bit più significativo viene messo uno 0 lo facciamo tre volte quindi che cosa succederà questo 1 0 che era nel registro B ed è passato poi nell'accumulatore grazie a queste istruzioni RRA finisce in questa posizione qui nella posizione del bit 5 e del bit 4 anzi del bit 4 e bit 3 perché bisogna ricordarsi che il primo bit quello più più a destra si numera a partire da 0 quindi bit 4 e bit 3 se partiamo da 0 quindi adesso i bit si trovano nella posizione giusta 1 0 si trovano nella posizione giusta cosa facciamo andiamo a fare un end in modo da cancellare tutti i bit che non ci interessano e tenere e tenere solo il bit 3 e il bit 4 che rimarranno 1 0 anche se qui c'è 1 1 l'end dove c'è 1 tiene il valore che c'è nell'accumulatore quindi rimane 1 0 come vi mostravo nell'esempio a questo punto facciamo OR con l'H con il registro H vuol dire che 1 0 verranno memorizzati i 2 bit verranno memorizzati qui perché per il momento il registro H contiene degli 0 e quando facciamo l'operazione OR logico se c'è uno 0 nell'accumulatore facendo questo OR rimane lo 0 che c'era ma se c'è un 1 viene compiato un 1 quindi in pratica nell'esempio che vi ho fatto adesso questo 1 0 viene memorizzato qui 1 0 e quindi abbiamo costruito il registro H come deve essere con la prima serie di bit 0 1 0 seguiti da y7 y6 con il loro valore originale che era nel registro B seguiti da y2 y1 y0 abbiamo incastrato tutto perfettamente e vedete quante istruzioni ci sono volute ecco l'ultima di questo pezzo è che l'accumulatore che ha fatto tutti questi calcoli viene adesso memorizzato nel registro H che conterrà tutti i bit necessari ecco dicevo questa cosa è complicata ci vogliono tanti cicli per realizzare questa sequenza quindi disegnare un pixel non è immediato anche l'istruzione del basic plot fa questi calcoli praticamente adesso non so se esattamente questi ma non è che si possa fare in modo molto diverso disegnare un pixel sullo schermo a questo punto però ci sono tante altre istruzioni sotto che le vedete qui adesso le dico velocemente nell'accumulatore viene messo il registro B cioè il valore di Y viene usata l'istruzione RLA cosa fa questa istruzione RLA due volte invece di spostare i registri verso destra l'accumulatore verso destra i bit dell'accumulatore verso destra li sposta verso sinistra R sta per right cioè destra L sta per left sinistra e andiamo a salvare con l'istruzione AND solo i tre bit che saranno più a sinistra di tutti se ci pensate facendo questo scorrimento verso sinistra cosa sarà successo si saranno spostati in quelle tre posizioni il bit 5 il bit 4 il bit 3 del registro B che devono proprio essere lì vedete i bit della Y 5 4 e 3 devono essere in fondo al registro L noi li abbiamo presi dalla loro posizione spostandoli verso sinistra due spostando i bit verso sinistra due volte Y5 che si trovava qui è finito nel bit più significativo cominciamo l'accumulatore contiene quindi questo spostamento nel registro L andiamo proprio a memorizzare questi tre bit grazie allo spostamento che abbiamo fatto poi carichiamo il registro A con il il registro C cosa c'era nel registro C? la coordinata X adesso nell'accumulatore c'è la coordinata X a noi serve che la coordinata X sia spostata di tre posizioni verso destra perché X7 che era in questa posizione si deve spostare in quest'altra scusate in quest'altra posizione quindi nel bit 4 dobbiamo spostare tutto di tre posizioni e quindi vedete che usiamo RRA tre volte dopodiché l'accumulatore viene fatto di nuovo l'end con la maschera di 5 bit meno significativi lo vedete questi 5 e 1 e poi facciamo l'OR con il registro L che già conteneva Y5 Y4 Y3 gli si viene a infilare grazie all'istruzione OR gli si va a infilare l'ultima la parte più significativa del registro X e poi l'accumulatore lo mettiamo in L alla fine grazie a tutti questi passaggi in HL voi trovate l'indirizzo del byte che contiene il pixel che volete accendere ecco è complicato perché praticamente di queste istruzioni non avevo mai parlato nei video precedenti dello ZX Spectrum ne avevo parlato di istruzioni simili nel video più completo dell'Assembly del 6510 del Commodore 64 però vedete che insomma vedendole all'opera queste istruzioni un po' si intuisce che cosa fanno poi chiaramente bisogna prendersi un manuale e andarsene a leggere bene per capire bene perché così raccontate tutte in una volta può essere un po' complicato ora per il momento quindi che cos'è successo abbiamo trovato il byte che contiene il bit che vogliamo accendere ora per accendere il bit io mi sono inventato non c'era su quel sito che vi ho mostrato prima il sito mostrava solo il codice per individuare il byte e spiegava un po' tutta questa incastro di bit però adesso bisogna prendere come vi dicevo i bit meno significativi della x che contengono valori da 0 a 7 e bisogna trasformarli in un bit da accendere quindi i valori 0 7 devono diventare un bit e questi bit corrispondono a delle potenze di 2 quindi se ci fosse 0 in questi 3 bit ecco 0 vuol dire 2 alla 0 cioè il primo bit se invece ci fosse 7 2 alla settima fa 128 e 128 è proprio il valore da inserire nel byte per avere acceso il bit più significativo e così via se conoscete un po' di aritmetica binaria sapete cosa significa attribuire a questi bit i valori di potenze di 2 e allora con questo codice qui che adesso non sto a raccontarvi perché sono già passati 31 minuti questa parte qui serve me la sono inventata io che non conosco l'assembly dello Z80 e probabilmente ci sarà un modo più furbo per farlo comunque lo scopo viene raggiunto ho messo dei valori in una serie di locazioni di memoria e con degli indirizzamenti mi vado a recuperare quei valori quindi per esempio quando in quei 3 bit ci fosse il valore 7 con queste istruzioni io vado a prendere questo byte qui che contiene 128 perché 2 alla settima fa 128 e uso quel valore per accendere il bit con questo questa istruzione XOR che vedete qui però direi che è già abbastanza confuso così l'argomento questa parte effettivamente è poco significativa perché non ci accendiamo di certo un bit solo quando usiamo l'assembly e quindi è poco importante questa parte invece molto importante capire come individuare il byte per esempio che si trova nell'angolo in alto a sinistra di uno sprite poi tutti gli altri byte e li riempiamo di conseguenza con altri ragionamenti che non sono questo comunque ci sarà sicuramente per giunta un modo più semplice per fare questa cosa e quindi è inutile che vi spieghi come ho fatto io casomai se trovassi il modo semplice potrei illustrarvelo in un futuro video bene questo era il video che grazie ai commenti che ci sono stati nel video precedente ho fatto di spiegazione della funzione plot se avete domande potete farle come al solito qui sotto nei commenti e quindi sbizzarritevi se vi siete accorti di errori ovviamente fatemeli notare altre cose non ho da dire critiche costruttive ovviamente non mettetevi lì a criticare e basta per partito preso io propongo questi video se qualcuno è interessato se li guarda chi non è interessato non se li guarda ovviamente non mi resta quindi che ringraziarvi tantissimo per l'attenzione e ci si rivede in uno dei prossimi video ciao a tutti